L'importanza delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e la conservazione di quest'ultimo sono gli argomenti che sono stati al centro di un corso di formazione tenutosi presso l'aula magna Roccamonte dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Paradossalmente, mentre sul punto nascita di Polla pende la spada di Damocle della soppressione, il personale medico e paramedico viene formato su come procedere nel delicato momento della nascita e della raccolta del prezioso sangue del cordone ombelicale. Si tratta di un momento molto delicato ed importante, ha spiegato il dottor Carmine Oricchio, responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale di Polla. Tali cellule infatti potranno essere utili a bambini o adulti affetti da patologie importanti. Il corso di formazione che ha visto alternarsi i relatori importanti, tra cui proprio il dottor Oricchio e poi il direttore sanitario Luigi Mandia, l'ex direttore sanitario Nunzio Antonio Babbino ed il primario di ginecologia ed ossetricia del Luigi Curto, Francesco De Laurentiis, si divide in due parti. La seconda parte del corso infatti si terrà il prossimo 14 dicembre.